Buona mattinata a tutti, oggi per l'Inter è un giorno speciale perché? Perché ieri Alexis Sanchez ha purgato i bianconeri al photo finish, ve lo ricordate? Aveva passato in vantaggio McKennie, risponde l'autoro dal dischetto e al finale del secondo tempo supplementare Alexis Sanchez, tutti dicevano che è mostro quel giocatore che è mostro quel giocatore, ha fatto la sua bella figura purgando i bianconeri, ragazzi che derby d'Italia, combattuto coi denti fino all'ultimo, tante occasioni sprecate tante occasioni sprecate, sia da una parte che dall'altra, Perin ha fatto i suoi soliti grandi miracoli, ha parato un sacco di volte i tiri dell'Inter, soprattutto i colpi di testa però è stata veramente una bella partita, una gran supercoppa sotto il clima di San Siro sotto la nord esultava il grande Sanchez per il gol segnato ai bianconeri e Inter supercampione d'Italia a San Siro un solo precedente ricorderete nel 2005, in quel caso giocato al delle Alpi ieri sera a San Siro e anche stavolta si è deciso con la vittoria dell'Inter nei supplementari decide il grande Sanchez, io adesso ho appena finito di vedere, l'ho vista ieri in tv, adesso ho appena finito di vedere la sintesi di diretta a stadio su YouTube, la grande esultanza di Tramontana che, mamma mia che felicità in studio e oppini, rimasto tutto così stardito purtroppo niente arbitro qui che ti ha aiutato, nessun aiuto arbitrale qui qui l'hai proprio presa in quel posto all'ultimo istante vedrò tra un po' se sarà possibile sentire invece l'esultanza di Scarpini ciao a tutti e buon giovedì mattina